Quella che doveva essere una formalità diventa una nuova fonte di perplessità e dubbi. Ieri abbiamo sancito il passaggio delle quote dell'Unione 2012 da Marco Pontrelli e il suo raffinato clan della capitale a Silvano Favarato, patron dell'Union V di Treviso e titolare della SS Immobiliare Omonima. Si attendeva solo la formalizzazione di quella fideiusione da 500.000 euro annunciata con una fotocopia al giudice Merluzzi. Il documento è effettivamente arrivato alle 12.58 di erne, ma non nella forma attesa. Nessuna delegazione, né legale con documenti al seguito, ma una mail di posta certificata con il fondamentale allegato. Stando di indiscrezioni, la fideiusione sarebbe partita dalla Banca di Credito Cooperativo di Milano e indirizzata alle casse della Triestina. Fondi che dovrebbero garantire un aumento di capitale della società, utile sia al pagamento dei debiti, attraverso un nuovo concordato che garantirebbe il 100% dei denari ai creditori privilegiati e una percentuale congrua ai chirografari, oltre alla prosecuzione dell'attività calcistica. A quanto pare però il giudice Merluzzi avrebbe deciso per un consulto collegiale prima di avallare l'operazione. Con la convocazione di un collegio ad hoc per la giornata di domani, presieduto da Arturo Picciotto e composto anche da Daniele Venier per un confronto sull'effettiva congruità della fideiusione e i futuri passi da compiere. Intanto però, mentre una nuova società di fatto non esiste, sinché non verrà sancita la liceità del passaggio dal giudice, arrivano già dei comunicati ufficiali. A quanto pare c'è già un nuovo mister, il signor Doardo, di cui il fantomatico ufficio stampa si scorda di comunicare il nome di battesimo. Si dovrebbe trattare di tal Domenico, ex portiere e alla corte di Dicanio al Sunderland. Comunque non male come prima noto ufficiale. E poi una seconda missiva che precisa lo svincolo dei due figli eccellenti di Piero e Pontrelli, in quanto non più rientranti nei piani della società. Oggi intanto la squadra ha fatto solo un po' di palestra a Rocco, ma domani dovrebbero essere ufficializzati addirittura otto nuovi giocatori per rimpolpare la Rosa, con tanto di conferenza stampa e ci risiamo a presentare la nuova era. Noi continuiamo a registrare e informarvi in attesa di un barlume di chiarezza e serietà. C'è una conferenza stampa pomeriggio. La fate? A che ora? Non lo so, adesso lo abbiamo a decidere.